ciao ragazzi sono con domenico e siamo nel parco delle colline di brescia siamo esattamente nella valle di monpiano partiamo metto gli occhiali così sto meglio partiamo per il rifugio degli alpini nella valle di monpiano appunto e poi andremo verso la cascina margherita dovremmo fare un giro il nostro preguardo cascina margherita dovremmo adesso decidiamo se andare dalla variante più agevole oppure fare questo sentierino che forse è un po più ripido però non mi sembra infangato sembra bello ecco qua siamo al rifugio nella valle di monpiano bellissimo però purtroppo è chiuso ecco questa è la grotta dove allestivano il presepio bellissima qui vediamo i danni causati dalla trombavaria che nel 2018 ha sradicato parecchi alberi nelle foreste del mondo bellissima 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.